Vicini alla vetta, sul secondo gradino del podio, si prepara come un atleta per le olimpiadi, arriva veloce come un proiettile e poi e poi e poi Van Damme, un calcio nella notte della nostra dance floor. Avete visto? Bisogna partire, angelici, bisogna fluttuare sulle acque, siete degli angeli, ma avete un lato diabolico e quindi lo preparate questo lato diabolico, dovete stare attenti e hoppa la la, potete provare a casa, distruggete la ceramica della vostra mamma, il servizio da te.